e urca periurca a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite signori presenta un amico connettiti con gli amici e ottieni il costume estetico di gioco a sorcobaleno di fortnite e altri ricompensi signori un battle veramente assurdo abbiamo finalmente le notizie praticamente è lo stesso programma riavvia un amico andiamo subito a vedere come fare vi lascerò il link in descrizione ragazzi cliccare sulla voce ottieni il costume fare accedi adesso ci accederà in teoria un automatico vabbè in questo caso perché già ho l'automatic login solo per queste robe come funziona aggiungi un amico idoneo su fortnite sul sito presenta un amico complete i compiti con gli amici e ottieni ricompense in pratica ragazzi ve lo spiego in breve dovrete semplicemente giocare con un amico se non ricordo male era come potete vedere qua un mese cioè 30 giorni ragazzi che appunto non giocava a fortnite lo dovete far ritornare a giocare a fortnite e poi appunto giocare insieme un paio di partite più partite giocate ovviamente più riuscite a ricevere le ricompense dunque clicchiamo su capito e come potete vedere qua innanzitutto dovremo prima di tutto fare aggiungi un amico clicchiamo aggiungi un amico ragazzi e vediamo un po' quale account ci fa vedere in questo caso nella nostra lista amici che non è più attivo in questo caso da più di un mese in questo caso ragazzi molto probabilmente farò col mio secondo account perché altrimenti la vedo veramente dura in ogni caso vi consiglio anche a voi ragazzi di crearvi un account o comunque di giocare un pochino giusto per averlo sempre di scorta ragazzi un secondo account secondo me va sempre tenuto io ce l'ho ormai da praticamente due o tre anni quasi praticamente un anno dopo aver creato il mio principale e dunque raga andremo arrivare praticamente quello molto probabilmente o magari non lo so adesso vedo se chiedo a qualche fan di giocare appunto così almeno non riusciamo a fare qualche bisalacata ma molto probabilmente non so se quanto riuscirò in realtà a giocare con appunto alcuni dei miei fan perché insomma non è che ci gioco proprio spesso a forterit però quando ci gioco vedete c'è youtube lucius che come sempre c'è idoneo e dunque ragazzi per il momento proviamo ad aggiungere lui dunque hai aggiunto il tuo primo amico di presente un amico semplicemente per iniziare e completate insomma andiamo a vedere completato ok andiamo subito a vedere abbiamo ottenuto la schermata di incaricazione ovviamente innanzitutto va benissimo dobbiamo giocare una partita a forterit con un amico giustamente invitato cioè in questo caso youtube lucius dunque giocando una partita otterremo la copertura vediamo un po' posizionandoci tre volte nella top 10 con appunto il mio invitato in questo caso con youtube lucius con il mio secondo account otterremo deltaplano eliminando i 10 avversari con il mio amico invitato otterremo il piccolo e ragazzi ottenendo 60 più livelli per conto tuo e aspetta che il tuo invitato ne ottenga altrettanti dunque ragazzi questo è veramente difficile dovete praticamente accumulare ben 60 livelli e non è facile ragazzi però vi danno una skin completamente gratuita facendo questo in realtà giova anche a loro perché più giocate più loro guadagnano anche se hanno fatto uscire una skin gratis direi anzi finalmente visto che è un po' che non escono skin gratis in questo modo con delle sfide dunque ragazzi tanta tanta roba questo è il metodo dura di più semplice link in descrizione aggiungete un amico che non gioca da più di un mese e fatelo ritornare su fortet in questo caso io probabilmente lo farò anche in live questa roba di portare su anche il mio secondo account però la vedo veramente impossibile giocare praticamente per 60 livelli cioè praticamente bisognerebbe giocare tutto il giorno da adesso fino alla fine della season no non credo però circa praticamente con il mio secondo account quindi la skin sicuramente ragazzi non la otterrò mai ma questi tre quindi il piccone il deltaplano e la copertura molto probabilmente lo farò perché è abbastanza semplice ragazzi dunque tanta tanta roba fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate se siete d'accordo con questa roba che ho fatto io sì ma in parte avrei fatto magari 30 o più livelli perché a 60 ragazzi è veramente impossibile ma in ogni caso fatemi sapere la vostra qui sotto dunque signori noi ci possiamo appunto salutare in un prossimo video bene live ci vediamo stasera ragazzi live su fortet sempre dunque ragazzi un bacio grandissimo beh ragazzoni link in descrizione e fatemi sapere appunto ripeto la vostra qui sotto riguardo a questo programma bislacco per me ci sta ma un po' troppo difficile beh ragazzi ciao 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 ciao